Buongiorno Mastro Ciliegia, ho bisogno di un pezzo di legno per farmi un burattino. Io voglio mangiare il gelato, andare sullo scivolo, correre, giocare, giocare, giocare. Tu sei Pinocchio, il figlio di giochetto. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchio. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e Pinocchio il figlio. E il più ricco faceva le lemosi. Ehi, guardate questa è casa mia, vattene via, stupido grillo. Non la voglio, fatina mia. Va bene, allora morirai, ciao. No, no, ti prego, dammela. Sei il più bel bambino, vero? Che io abbia mai visto. E ne ho visti, eh, per carità. Sei il quini presente, signor Pinocchio, nella persona di un burattino? Conosco un posto dove i soldi si moltiplicano, si chiama Campo dei Miracoli. I grandi ti dicono sempre quello che vogliono farti per farti fare quello che vogliono dirti. Cioè... Pinocchio, sta arrivando! Mangia fuoco! Vai, asinaccio maledetto! Corri! Il burattino con l'albe venga dunque messo in prigione per cinque mesi. La scuola mi prego, Pinocchio, sei un giorno.